Dobbiamo comunque riuscire ad aggirarli. Il portello è in fondo. Come? Troviamo un diversivo, il generatore. Se saltasse dovrebbero andare a controllarlo. Se sei più piccola di me, avrai meno rumore. Ottimo. Chi di voi ha controllato le scorte per ultimo? Io. Perché? Perché ti sei servito per vena. Che cosa cazzo vorresti dire? Ehi, è stato con me per tutto il tempo. Mancano cibo, munizioni medicinali. Se non è stato uno di noi, avevamo ragione. Qualcuno è stato qui. Non va bene. Dovremmo essere al sicuro qua giù. Merda. E il blocco che ha messo Joe? Ci sono appena passato. È tutto sigillato. Occhi aperti. Tenete le armi pronte. Qualcuno dovrà dirlo al capo. Il capo? È solo il commesso di un negozio. Ah sì? Pensi che tu potresti fare di meglio? Non sta dicendo questo. Sto solo dicendo? Piantatela di parlare e aiutatemi a controllare questa roba. Ovviamente se riuscite a chiudere la bocca per più di cinque secondi. Che cazzo succede? Il generatore è morto. E si è spento da solo? No, c'è qualcuno. Meglio controllare. Tutti con me. Chi c'è? Esci fuori e non ti faremo niente. Ho visto come... non sembra rotto. E come lo sai, Einstein? Se fosse fuso ci sarebbe del fumo. Beh, di certo ora non funziona. L'interruttore di emergenza? Un topo forse. Si è incastrato e l'ha attivato. Un topo? Solo un enorme ratto potrebbe riuscirci. Allora non lo so. Qualcuno vuole farci incazzare. Forse è la stessa persona che ha rubato la nostra roba. Mi pensiero mi dai brividi. Per questo siamo armati. Qualcun altro l'ha visto? Avanti. Forza. Sei stato avvisato. Ben lavoro, Ripley. da questa parte. Seguimi. Quanto manca? Ci siamo quasi. La navetta è poco più avanti. Spero solo che la tua nave sia ancora lì. Se va, stop, non è proprio come te l'aspettavi, eh? Non dovrei nemmeno essere qui. Sarei dovuto partire la settimana scorsa. Sarei dovuto partire la settimana scorsa. È bloccato. Quegli stronzi ci hanno isolati. Ho capito. Dobbiamo attivare le due centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa. Tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio tre. Uno, due, tre. Accidenti. Cosa? Pan-Kun! Venite qui, ho trovato il nostro ladruttolo del cazzo. Pensavi di prendere quello che ti pare? Lasciami, stronzo! Cazzo. Andiamo. Gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare! Ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Parandegli! Cazzo, è morto. L'hanno ucciso. L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me! Mi hai salvato la vita! È questione di sopravvivenza! Lo capisci? Hai sentito? C'è qualcosa? Accidenti. Ma che roba è? Che cosa era quella cosa? Devo proseguire. Lo capisci? Autore dei sorrisi 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 Autore dei sorrisi